ciao a tutti amici benvenuti su questo episodio sperando che ci sia modo per risolvere il più presto possibile perché devo di così in genere io vorrei avanzare dal fronte principale per chiudermi e avanzare diretto a fermi qua c'è poca roba potevo anche attaccare ii avrei avuto qua un altro spazio che devono attaccare alla fine non so se conviene e quindi ho preferito di no ma avvene tutte le sue risorse l'avrebbe fatto bene questo non posso dire di no ormai è andata e quindi va bene così facciamo vedendo poi un'antitec a questi no no perché hanno attaccato a questi no porca puttana situazione è bruttissima mettiamo i nostri proprio c'è un po meglio più forti no puca eh non è che non è che si pari tutta la strada però tutte le truppe sono ammassate qua qua c'è poco poco e poco che c'è si è un po' So tired. What do you need? Hey. Get down! Come on, Fade. Voi fermi... Ah, vabbè... Voi fermi... cioè no, adesso tutti fermi... Incoming! Questa è una fortissima... Questa è la quinta? Questa è una fortissima... 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 Oh... Vabbè... Hanno accettato... tipo... mia grandissima sorpresa... C'è fascista? Ok Ok Adesso Ok La spensione è troppo forte E tiratevi Toma da lanciare per sotto Niente Ok Poi accordo Continuiamo 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 Seconda battaglia per We're done Questa è interessante Due Hours Later Chori Voi 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 C'è 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 che cosa vuoi? fammi 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 tu fammi tu fammi tu chied cosa vuoi? fammi tu ok I've got this! What do you need? What do you need? What do you need? What do you need? No! That's it! That's it! You're not bad for us! Siamo senza uomini. Penso anche loro. 3000. Devo fare... non infetta di più. Anche mo... ci attaccheranno a Washington Brotherhood. Sicuro. Se non finisco adesso... non finisco più. Vesta, vesta, vesta! C***! C***! I've got you now What do you need? What do you need? Take this Take this Okay Take this Take this Dai, 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 dai Se c'è sta musica c'è il Texas, si, ecco Vai, su Vai, su Fandone Bene 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 Continuiamo così Dai, su, presto Fammi il tuo cielo benedetto Ho messo in sformulare il gisma, si Ma io non avevo già fatto questo Perfetto Quella qua Prendo questa città Mi sono rotto di coglioni Ok Ragazzi Il video finisce qua Spero che il video vi sia piaciuto Se vi sia piaciuto Comentate Ci vediamo sul prossimo episodio Ciao ragazzi Questa è una vittoria incredibile Questa è una vittoria Questa è una vittoria Grazie a tutti